Unboxing del nostro Glatz RTA della Steam Crave Nella confezione abbiamo il nostro Atom da 31 che andiamo a vedere in seguito Una campana di ricambio in Pyrex Un tank di ricambio in Pyrex Un Bubble Tank che aumenta di 3 ml la capienza del nostro atomizzatore portandolo da 7 a 10 Un gommino per proteggere il nostro vetro del diametro giganormico Perché appunto quelli standard che si trovano in commercio non basterebbero Sacchetto di spare parts con un guaina per il top cap per la zona di raffilo sostanzialmente in silicone OR di ricambio, grani di ricambio I mortacci vostri sono tutti con inserto a brugola L'unica coppia fornita con inserto a taglio è una sola Io li ho già cambiati nel nostro deck perché quelli a brugola noi li odiamo E poi ci sono 4 grani con inserto a brugola e altri 4 sempre con inserto a brugola però neri se non vi piacciono quelli argento Chiaveta multiuso, user manual e adesivo da Steam Crave Cominciamo come di consueto con le dimensioni, abbiamo un'altezza dalla base al tip di 57 mm.5 E un diametro dichiarato di 31 che diciamo si... tra il 30 e il 31 Per un peso di 106 grammi ragazzi Un bel mattoncino Cominciamo a dare un'occhiatina a questo atomizzatore, si tratta di un RZA, quindi un tank da polmone di 31 mm Che ha come caratteristica principale quella di avere la campana interna costruita in Pyrex Quindi rispetto alla maggior parte dei tank che ha la campana costruita in acciaio come il resto dell'automizzatore Qua abbiamo una campana in Pyrex E' un atomizzatore dual coil con deck postless che ha una capienza di 7 ml Per quello che riguarda il vetro montato in questo caso Con l'utilizzo del bubble tank che vi ho fatto vedere in precedenza Incrementiamo di 3 ml la capienza portandola a 10 Le parti restanti sono costruite in acciaio Guardandola nella parte superiore possiamo vedere la scritta Steam Crave Glass a laser E' un bel drip tip in materiale plastico con attacco 810 Il tip ha già due R montati ma è anche presente un altro R qua dentro per garantire una tenuta ancora migliore Quindi mi sento di dire che probabilmente se anche voi vogliate montare un drip tip di quelli non sono in resina Che non hanno alcuno R Con il fatto che c'è uno R qua dentro dovrebbe riuscire a garantire la tenuta Il sistema comunque è ben fatto anche questo drip tip non ne ha mai fatto bere minimamente alcuna goccia di liquid Il tip tocca direttamente la parte inferiore quindi è proprio praticamente impossibile che si creda la condensa Quindi da questo punto non si può dire assolutamente nulla Qua abbiamo la zona dedita al refill con un sistema a ghigliottina Che si apre così tac Abbastanza duro Che non dovrebbe crearvi alcun problema di apertura involontaria in tasca Ma come potete già vedere da voi non è un sistema che io porterai mai in giro tantomeno in tasca Perché è un pochino ingombrante Quindi io lo dico per dover di cronaca però non credo che voi lo portiate mai in tasca Però comunque il sistema è ben costruito, è ben fatto e funziona bene Anche il fatto che la zona dedita al refill sia comunque un po' infossata Dove c'è questa guaina in silicone Non mi ha mai creato dei problemi di leaking Quindi non ho mai avuto perdita di liquido in fase di refill L'unico difetto che li posso trovare è forse l'asolina leggermente piccola Cioè non è piccola ragazzi però diciamo con un tank di queste dimensioni Magari uno spazzettino in più gliel'avevi dato Però sono tutte piccolezze di malati mentali come me Ora smontiamo l'atomizzatore per guardarlo meglio Abbiamo la parte superiore appunto del top cap Che si svita La nostra campana E il nostro se riesco a svitarlo deck Che andremo a vedere in seguito Soffermiamoci un attimo su queste tre parti Qui appunto come possiamo vedere abbiamo la parte che abbiamo visto prima però assolutamente dall'altro lato La nostra campana La nostra campana verrà inserita qui dentro e verrà tenuta ferma con l'ausilio di un OR che è stato inserito Adesso non so se si riesce a vedere bene Esattamente qui Questo ci permetterà di fare in modo che la nostra campana in vetro resti nella corretta posizione Per aiutare questa cosa S'hanno messo nella struttura diciamo del nostro serbatoio Nell'armatura del nostro tank Questi quattro dentini di metallo che ci permettono una volta che noi andiamo a inserire la parte superiore Avvitiamo il tutto E far sì che la campana non si muova e non cada giù Perché appunto nella parte superiore è tenuta solo da un OR Il tank è assolutamente sostituibile in maniera molto rapida e facile Perché è tenuto nella parte alta e nella parte bassa da due OR E semplicemente tirandolo su possiamo sostituirlo e toglierlo dalla nostra armatura Per eventualmente montarci se lo desideriamo il nostro bubble tank che abbiamo visto in precedenza Ah dimenticavo per tenere salda l'armatura diciamo al nostro top cap Qua è presente un filetto con una corsa non tanto lunga A volte assemblato la parte superiore risulta essere così Guardiamo un attimo la nostra campana In pierax che nella parte finale è stata leggermente stondata non tanto E non essendo appunto filettato il vetro naturalmente Come lo era nella parte superiore Anche nel nostro deck è stato inserito un OR Per permettere alla nostra campana di rimanere nella corretta posizione Quando noi andiamo a riassemblare tutto l'automizzatore Come potete vedere ci sono i dentini ok Però ogni aggiunta è sempre migliore Qua abbiamo la zona d'ingrasso del liquido e qui abbiamo la zona d'alloggio del nostro cotone Quindi il fatto è che la campana deve rimanere sicuramente ferma a questa altezza Per evitare di chiudere il flusso del liquido sostanzialmente Anche se i dentini comunque fanno già il loro lavoro Una cosa che io non ho notato O almeno magari mi sono sbagliato io È che al di fuori del discorso estetico Per il fatto che si vede il deck Eccetera eccetera Non ho visto alcun beneficio Nell'avere appunto la campana in vetro Cioè secondo me è solo un discorso estetico Io non ho visto grandi guadagni Per quello che riguarda la Roma sinceramente Poi oh questa è la mia opinione La mia voce non è assolutamente verità Quindi nel caso se voi avete notato miglioramenti Me lo volete dire ben venga Sono pronto e disposto ad ascoltarvi sempre Andiamo ora a guardare il nostro build deck Ovvero questo qua Anch'esso tutto costruito in acciaio Si tratta come vi dicevo prima Di un deck postless Quindi non abbiamo delle torrette Ma abbiamo questi quattro fori Dove andiamo a inserire i nostri wire Qua lateralmente abbiamo i grani di serraggio Che io ho già sostituito Mettendo quelli con l'inserto a taglio Perché non si sa in quale sia il motivo Ancora la Steam Crave Continua a usare quei maledetti grani Con l'inserto a brugola Che ormai penso odino tutti Perché fanno schifo E guardando dall'alto Vediamo appunto i quattro fori di alloggio Dei nostri wire Che non sono tanto grandi Cioè non sono né piccolini Però diciamo che non sono generosi Ci stanno Non si può dire nulla a riguardo Però non sono sicuramente Degli alloggi per i fili Che spiccano Cioè della serie Non è che li vedi e dici Oh mamma mia Guarda quanto spazio che ho No sono nella media Quando andremo a buildare Il nostro ottimizzatore In dual coil Andremo ad inserire Una gambina di qua Una di qua Una di qua Una di là E il cotone verrà alloggiato In questa zona Sia da un lato Che dall'altro Poi dopo naturalmente In fase di buildaggio Vi faccio vedere bene Qua di fianco abbiamo I due canali Di ingresso dell'aria A forma diciamo Pseudo triangolare Che permetteranno L'ingresso dell'aria Da questa ghiera Da un lato E dall'altro Entreranno dentro E prenderanno la coil Diciamo Dalla metà in su Fondamentalmente Infatti è comunque Consigliabile Secondo me Da come ho provato Questo ottimizzatore Nell'arco degli ultimi giorni Non buildare Troppo alto Bisogna rimanere abbastanza bassini Perché comunque Questo gradino Fa un po' Da direzionatore Dell'aria Secondo me Quindi l'aria Entrando dalla ghiera Qua di fianco Tutta bucarellata Come siamo abituati a vedere Moltissimi atomi Da steam crave Entra di qua E questo Questa sponda Passatemi il termine Da paravento E la direzione Verso di qua Quindi bisogna rimanere Abbastanza bassa A mio avviso Come dicevo prima L'ingresso dell'aria Dall'esterno Avviene tramite queste due ghiere Una da un lato Una dall'altra Tutte buche relate La ghiera Ha un inizio E un fine corso Quindi potremmo regolare Il nostro airflow A nostro piacimento In aggiunta Cosa ci resta da dire Qua abbiamo Vi faccio vedere Giusto un attimo Qual è il funzionamento Cioè come funziona L'alimentazione del liquido Di questo ottimizzatore Praticamente abbiamo Questi due scassi Da un lato E dall'altro Dove il liquido Arriverà E poi dopo salirà Verso le zone Di alloggio del cotone Che sono queste due Quindi noi Una volta buildato Posizioneremo Il cotone Fino proprio all'inizio Del suo alloggio Per permettere al liquido Di poter salire In maniera agevole Quindi ora Non ci resta Che rigenerare Il nostro bombolone Per rigenerare Il nostro Glatz RTA Ho pensato Di utilizzare Queste Coil Della Augvape Che sono delle Staggered Multicore Fused Clapton Con il quale Mi sono trovato Abbastanza bene In questi giorni Ho già provveduto A tagliare Una delle due Coil Della lunghezza Che per me È idonea Poi dopo Andiamo a sistemare Meglio Naturalmente Però Intanto Vi faccio vedere Più o meno L'altezza Con il quale Io mi sono trovato Bene Che Circa questa Ecco qua Adesso non ci resta Che Mettere un po' Più al centro Perché Aromaticamente Ho potuto Constatare Un notevole Miglioramento Distaccandole Un po' A logica Ho pensato Beh più le piglia L'aria è vicino Meglio è Però invece Lasciare questo Spazio Qui come ho fatto Adesso Ho constatato Che in realtà Migliora Abbastanza Il flavor Una volta Sistemata La posizione Delle nostre Coil Diamo qualche Leggera attivazione Qualche grattatina Per vedere Eventualmente Se ci sono Hotspot E toglierli Prima della Cotonatura Ok Si accendono In maniera Corretta Ora non ci resta Che cotonare Il nostro Bombolone Anderemo Ad utilizzare Il Wicked Wicks Il cotone Della Cittureghetta Indicativamente Per la Lunghezza Corretta Prendete Come riferimento Non so se Si vede C'è praticamente L'OR Indicativamente Tagliate Circa qua Dunque vi consiglio Sempre Di fare Un lato Prima dell'altro Così nel caso Non risulti essere Un po' troppo corto Avete ancora La possibilità Di poter Tirare Dall'altra parte E fregare Un po' Da di là Apriamo sempre Il nostro Cotone Per bene Lo scribriamo Anche un po' Nella parte Inferiore E lo adagiamo Nella nostra Zona Nella nostra Asoletta Praticamente Basta Veramente Che Risulti Solo Appoggiato Nell'alloggio Non Bisogna esagerare Perché Il liquido Appunto Come dicevo Prima Entra da qua E sale Su Io mettendolo Così Mi si è sempre Alimentato bene Non ho mai avuto Speedback in bocca Quindi per me Così va molto bene Mi sono erroneamente Espresso male Prima Non volevo fare Riferimento A questo R Ma volevo fare Riferimento A questo A questa parte qua Quindi guardandola Dall'alto Più o meno A questa Altezza Qui dovete Tagliare Non so se si vede Per avere la corretta lunghezza Prima di nessuno Espresso male Per inizializzare Le nostre coil Useremo il Dominus Double Chocolate Di Iron Vapor Una volta Inizializzato Il cotone Rimontiamo Il nostro Atom E Refiliamo Cominciamo a parlare Di questo Atomino Piccolino Piccolino Cominciamo dall'inizio Allora sicuramente Come Praticamente tutti I prodotti di Steam Crave A livello di qualità costruttiva Siamo A un ottimo livello Quello non si può dire Sempre così Per rapporto Qualità prezzo Che comunque Non è un atom Di bassa gamma Però A livello di qualità costruttiva Sono sempre Ottimi Quello si Il discorso Di questa campana Di vetro Secondo Il mio modesto parere Secondo me È prettamente estetico Perché A livello Aromatico Non credo E non mi pare Che mi abbia dato Chissà quale Vantaggio Anch'io non credo Che il vetro Odia D'aroma in più Ragazzi Sinceramente Anch'io credo Sia solo una cosa estetica Che ci sta Per carità È un po' più berigoso Però vai ti danni i ricambi Perché smontandosi tutto Cioè se ti vogliono Per terra È più facile Anche la campana Tenuta con l'OR Può dare un po' di problemi E per quanto OR Come tutti gli altri Del tip Cose varie Tenute perfette In perfetta linea Con la qualità costruttiva Comunque Anche tenere la campana Così con l'OR Nel smontarlo Essendo di vetro È molto facile Che vi si possa rompere Quello si Il sistema di air fill È molto funzionale Anche l'apertura È molto dura Io dicevo prima Che naturalmente Essendo un po' rugoso Del genere Non credo Che capiterà Praticamente mai Che ve lo mettiate in tasca Perché è un po' tanto grandino Però dai Comunque È molto difficile Che si apra Quello garantito Altra cosa Il tiro è molto piacevole Assolutamente molto piacevole E molto lineare Che è figo Per quello che riguarda la Roma Ci ho smadonato un pochino Nel trovare la posizione Più idonea delle coile All'inizio avevo sbagliato Perché le tenevo troppo vicine Ai bocchettoni dell'aria In realtà spostandolo un po' Verso il centro Secondo me Rende meglio Però a mio modo A suo parere Non è una roba Che ti fa mettere le mani Ai miei capelli Cioè Ha un buon aroma Però non è una cosa Che ti dice Wow Fotonico Esagerato Cioè Rientra nella media Diciamo Secondo me Hanno fatto degli atom Che aromaticamente In passato Che aromaticamente È molto superiore Ma rimanendo sempre sul 30 L'aroma Mizer Supreme Già Per gli anni Luce avanti a questo A livello di flavor Partito dal presupposto Che personalmente Su questo bagaglio qua Ci ho fatto 5 rigenerazioni In 5 posizioni diverse Ho provato a mettere Le coil più verso l'esterno Fiasco Ok ci può stare Perché vedendo il fatto Che c'è questa cunetta Vedevo Mi sono fatto il trip Dell'aria Che prende E viene su Però vedevo Dall'alto Che i fori dell'aria Veniva troppa più aria In su Rispetto a quella Che tra virgolette Veniva Incanalata E quindi ho detto Magari tengo un po' Verso l'esterno Però vedendo anche La posizione delle asole Ho pensato Che fosse un po' Più forzata Anch'io L'ho fatto più al centro Tenendola più in alto Niente Lui adesso La messa un po' Più bassa È un po' Migliorato Però non ti fa Cioè non è una roba Fotonica Scusa me Vi parlo che E non va caricato troppo Anche quello Perché comunque È un tank da 31 Però la campana Non è esageratamente grande Io ho provato A metterci anche Delle coil Un po' più spinte Dopo tre passi Diventa un incandescento Quindi non è Cioè va caricato il giusto Cosa che magari L'uno dice Cavoli per un atom da 30 Ci voglio mettere dentro Di un verosimile Cosa che ho fatto subito io Anche io Cioè immediatamente E non era proprio cosa Quindi Cioè Sono interdetto Sinceramente Anche perché Insieme a questo Steam Crave Ci ha mandato Altri due prodotti Quindi abbiamo In mano tre prodotti Steam Crave Uno è già uscito La recensione Che è l'RDA Glass Sostanzialmente E lì Siamo ad altissimi livelli Abbiamo provato Due settaggi e basta Perché appunto Tornando il discorso prima Per come la vediamo noi Poi ragazzi Sono punti Cioè noi qua Come diciamo sempre Noi diamo dei nostri pareri Se un prodotto è buono Non è che devi tribolare 3000 anni Per farlo andare bene Già quanto ci ho dovuto mettere Per trovare un settaggio Su questo Già mi fa storcere Un po' il naso Poi si vede Non è che fa schifo Però Specialmente per quello Che è lo standard loro Confronto agli altri due prodotti Che abbiamo a mano L'altro Dov'è no È di là Sta ricaricando È l'aromamizer lite Quello single coil E tra i tre Questo a livello di flegure È quello che mi ha convinto Di meno Sinceramente Ho anche notato una cosa Vedi anche adesso Non so se l'hai tappato Ma anche me Vedevo l'alimentazione No Sono stato super corto Perché ho sempre visto Che Anche un po' di problemi Di alimentazione Non è che ha problemi Però non è Non alimenta Proprio A dovere Ecco Come invece magari Sempre Prendendo un esempio L'aromamizer lite Che anche lì Non c'è il controllo Del liquido E invece Veramente alimenta Molto 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 Bene per esempio Questo qua Nonostante questo Vedi anche qui Dalla campana Vedo che non è che L'abbia ancora alimentato L'ho provato Ho provato a mettergli Nel pochissimissimo Corto 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 Cioè io l'ho detto Ti ho messo proprio Al livello Minimo E fa un po' Fatichina Non stecchi Però comunque Fa un po' Più fatica Ma ripeto Nel complesso Specialmente Contando il prezzo Il prodotto è ok Però se vi aspettate Qualcosa Che sia A livello di frevo Come un'aromamizer Supreme Quello da 30 O un titan Secondo noi Non ci credete Così tanto Seguiteci Sui nostri social Siamo molto attivi Facciamo vedere Tutti i prodotti Che stiamo studiando Vi facciamo vedere I dietro le quinte Tantissime altre belle cose Quindi mettete Un bel mi piace Alla nostra pagina facebook Seguiteci sul nostro canale Telegram Nostra pagina instagram Ovviamente Iscrivetevi anche Al nostro canale youtube E lasciateci un bel like Io sono Kata Io sono Miles E alla prossima recensione Ciao Ciao